In Indonesia e Thailandia è il giorno del 15esimo anniversario dello tsunami nell'oceano indiano, che uccise quasi 230.000 persone sino in India e sulla costa orientale dell'Africa, tra queste anche 40 italiani. Nella capitale provinciale indonesiana, Banda, c'è il governatore locali e ringraziato gli oltre 150 paesi coinvolti negli aiuti e la ricostruzione, mentre i parenti delle vittime hanno visitato una fossa comune dove queste sono state sepolte. Veniamo sempre alle fosse comuni delle vittime dello tsunami, dice il parente di una di loro, perché non sappiamo dove si è sepolta la nostra famiglia. Veniamo qui ogni anno. Cerimonie commemorative si sono svolte anche in diverse località thailandesi. In questo paesino di pescatore, nella provincia di Phangah, lo tsunami ha causato la morte di circa 2.500 persone, oltre la metà della popolazione. Era l'una di notte del 26 dicembre 2004, quando un terremoto di magnitudo 9.1 colpì l'oceano indiano a largo della costa nord-occidentale di Sumatra. Fu il quarto sisma più potente al mondo nella storia della sismologia, che scatenò gigantesche onde anomale che colpirono le coste sotto forma di tsunami.